Musica Voglio salutare tutti, ora sono stato a salutare tutti i ragazzi e mi dispiace, che dire? Sono sei anni, sono cinque anni da capitano, quindi sono stato e sono orgoglioso di essere stato sei anni qui e cinque anni capitano della Fiorentina, per me è stato un onore e quindi non può che non dispiacermi andare via. Poi nel calcio purtroppo succede tante cose, ci sono delle decisioni che uno deve prendere. Musica È vero che ti sei anche commosso salutando i tuoi compagni e chi di loro ti ha detto la battuta o ti ha dato l'abbraccio che più hai sentito e che ti ha più colpito? Sì, mi sono commosso, è normale, se continui succede ancora. Quindi c'è un ottimo rapporto con tutti e tanti anni è normale, quello che senti di più sono i ragazzi che sono stati praticamente da sempre, come Gobbi, come Donadel, come Jorgensen, Montolo, Gambero. Quindi questi a maggior ragione abbiamo sentito un po' il distacco di una cosa che è successa in pochi giorni, in proprio pochi giorni, quindi si fa anche un po' più fatica a realizzare. Sì, perché sto in centro, in conseguenza il fatto di venire al campo oggi già è stata un'impresa. Ho trovato i ragazzi all'uscita delle scuole, ho trovato tutti quelli che hanno attività lì sotto casa, dal garage al fornaio a tutti. Quindi li saluto tutti e non posso che ricambiare se c'è questo affetto da parte loro, mi fa molto piacere e da parte mia c'è sicuramente. Ti chiedo però forse una cosa più difficile, di ricordare alcuni tra i momenti più belli. È difficile perché ce ne sono stati tanti, forse tantissimi in questi anni. Sì, ce ne sono stati tanti e ora mi vengono a mettere più quelli belli che quelli brutti. E... niente.